È un commento, 5-0 si commenta male, il divario tecnico tra noi e loro è netto alla vista di tutti. I primi dieci minuti ci hanno messo subito sotto, hanno fatto subito il 2-0, 1-0, 2-0. Dopo siamo un po' riusciti a tenere bene il campo, siamo un po' riassestati, abbiamo avuto una palla a gol. Il primo tempo è finito così, pronti via nel secondo tempo, stessa cosa, dopo dieci minuti abbiamo fatto due gol. Dopo è scorsa sul 4-0 fino alla fine e poi all'ultimo minuto abbiamo preso il quinto. Abbiamo fatto cose buone da cose meno buone, ma la differenza tra noi e loro è troppo netta. Bisogna lavorare? Sì, c'è tanto lavorare. Sinceramente dall'inizio dell'anno questo gruppo è cresciuto tanto, era veramente indietro. È cresciuto, siamo abbastanza soddisfatti, ma ancora per arrivare a queste squadre qui c'è molto molto da lavorare. Immagino che i ragazzi comunque si impegnano nelle sedute di allenamento, in partita. Sì, sì, no, no, è una squadra che segue, che ha voglia, che però o per poco lavoro fatto prima o per anche dei limiti rispetto a queste squadre qui, siamo ancora un po' indietro. L'importante è andare avanti serenamente. Assolutamente sì. Grazie. Grazie.